I casi di violenza di percorsi di lesioni personali sono atti d'ufficio da parte della Procura, però è sicuramente indispensabile che qualcuno informi la Procura. Nel passato alcuni operatori sanitari hanno preferito non denunciare casi piuttosto soprassedere all'episodio di violenza che avevano subito. L'invito a tutti i sanitari è dunque quello di denunciare quanto subito violenze fisiche, verbali o psicologiche, un fenomeno che purtroppo è in costante aumento anche in provincia di Arezzo. Perché una società civile come quella in cui noi viviamo non deve tollerare queste specifiche derive del vivere civile. C'è poi chi invece aveva deciso di raccontare quanto subito. In Casentino nel gennaio 2023 due infermieri erano stati infatti aggrediti verbalmente. A seguito dell'episodio era stato presentato un esposto per interruzione di pubblico servizio, caso che adesso è stato archiviato. Evidentemente ci sono diversi profili di responsabilità. Noi come azienda abbiamo alzato l'attenzione su questo campo. So che la stessa attenzione la pone la Procura della Repubblica e la stessa attenzione la pone il prefetto di Arezzo con cui stiamo stilando un protocollo di intesa per rafforzare l'intervento delle forze di polizia e anche l'intervento della Procura della Repubblica per perseguire creati, delitti di violenza, di lesioni personali e di percosse compiute nei confronti degli operatori sanitari.